Ancora una volta Extinction Rebellion davanti al Consiglio regionale. Come mai siete qui davanti? Allora, siamo tornati qui davanti dopo l'ultima azione di tre mesi, nel quale abbiamo preso più di 20 denunce e 15 foglie di via, metà dei quali sono stati già ritirati. Siamo tornati ancora una volta, questa volta vestiti da Mignon, in quanto la Commissione Piemonte continua a non prendere misure che sono strutturali per proteggere i suoi cittadini e le sue cittadine, il territorio e tutti gli ecosistemi. Ecco quindi che l'unica maniera che ci rimane è vincere con l'ironia, per questo ci siamo travestiti da Mignon, perché i Mignon sono alla ricerca del personaggio più cattivo che compia i crimini del secolo. Noi non aiuteremo Gru a conquistare la Luna, ma stiamo aiutando il personaggio più cattivo qui in Piemonte, perché in tutte queste aule si compie il crimine del secolo, ovvero condurci verso il collasso climatico ed ecologico. Grazie a voi.